Mentre stavo per registrare la seconda parte di un video su TikTok in cui simulo un magnifico effetto sopracciglia al vento della mia testa pelata, il ventilatore atta generare un monzone tropicale ha fatto cilecca. Lasciare i follower in attesa di un ventilatore di rimpiazzo non mi pareva opportuno. Quindi armato di cacciavite e rimosse tutte le protezioni di componenti in plastica, arrivato il più vicino possibile all'albero motore, ho spruzzato nei punti di giunzione con i cuscinetti del VD40, uno sbloccante lubrificante con potere penetrante e buona viscosità residua, che lasciato agire per qualche minuto ha risolto il problema. Già che c'ero ho rimosso gli ingranaggi in plastica irrimediabilmente rotti del sistema oscillante e dato una bella pulita. Non avendo smontato il motore la procedura risulta estremamente semplice e veloce. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.